Roberto Creta, si è interrotta la mini striscia positiva, quanta amarezza c'è per una partita che si è risolta su un episodio da palla inattiva? Dispiace perché comunque hai avuto due o tre situazioni a fine primo tempo dove potevamo fare gol, non siamo riusciti e poi su questa disattenzione abbiamo preso gol, però non è così semplice come si pensasse, però alla fine abbiamo fatto la nostra partita, secondo me non meritavamo di perdere, però ripartiamo da qua, ripartiamo da tanti errori, ripartiamo da questa squadra che alla fine, come ho detto prima, si riparte da questo centrocampo che secondo me è un centrocampo buono, un centrocampo che sa stare in campo, da qua si parte e vedremo dove arriveremo. Domenica un altro test molto molto difficile, a Casale cosa ci vorrà per fare una buona partita? Come oggi ci servirà di sbagliare il meno possibile, di arrivare in una condizione accettabile, in questo momento stiamo facendo una fatica incredibile, però come ho detto bene è normale che in questa situazione se rincorrere dai sempre qualcosa in più, però non abbiamo forza nelle gambe, non abbiamo corsa, si vede proprio che stiamo facendo fatica, però non è una scusa, dobbiamo lavorare di più, io sono responsabile, dobbiamo solo metterci lì e continuare a lavorare. quando è che potremo vedere il Pondonna-Sonderna? Io credo da dopo domenica inizieremo magari a mettere qualche concetto in più, visto che comunque il secondo e il frasettimanale, allenamenti ne abbiamo fatti pochi, però sinceramente oggi mi aspettavo qualcosa in più, non c'è stato, però va bene, nel senso che non posso assolutamente incolpare sotto il profilo dell'impegno la squadra, anzi, ha dato tutto quello che poteva dare.